buongiorno eccoci qua sono qui sono venuta la spessa guardate che porto enorme pensavo che fosse così grande questa città ci sono 586,71 abitanti quindi sono veramente tanti sono venuta qua a trovare alcune delle mie ragazze alcune non potevano parliamo un attimo di nuovo di questo meraviglioso lavoro oggi a tavola parlavo appunto con la mia cara amica che non è facile capire cosa vuol dire fare questo tipo di attività perché ci sono persone che lo prendono come non un lavoro quindi queste persone non riescono a farlo perché lo prendono sotto gamba quindi come un gioco di quelli lì che ci sono al telefono quindi non riusciranno mai a tenere benefici oppure fanno le venditine modello non stiamo qui a fare nomi e il risultato è quello e valutavamo oggi proprio con queste persone con la mia cara amica e suo marito qual era la cosa come mai in questa azienda tante donne stanno facendo carriera da direttore a su e come mai alcuni non ce la fanno e come mai provano anche tante persone di tanti network e poi non ce la fanno io riflettevo su questo e riflettevo che sicuramente una forte determinazione dentro di noi poi dopo anche il fatto che devi saperti prendere delle responsabilità e sapere a poi gestire un team tutto questo è che se tu non sei capace metterti in discussione con te stessa è un po difficile perché io vedo tante che magari iniziano a collaborare dicendo la si faceva così qui si faceva cosa queste cose non devono esistere quindi devi proprio entrare a fare parte di una nuova famiglia e come tutte le famiglie ci sono regole diverse giuste o sbagliate non stiamo qui a sindacare e che segui una famiglia funziona tutto è giusto seguire quelle regole si dice il detto cavallo che funziona non si cambia qualcosa del genere quindi valutavo questo io sono veramente felice perché sono stata veramente tante volte in classifiche molto alte di tanti più soldi di vendite ma lo raccontavo oggi di nuovo le ragazze io mi sentivo arrivo a casa mi sentivo vuota senza nulla e davo veramente il 200 per cento qua invece la cosa interessante importante è che siamo tutti una famiglia quindi è veramente spettacolare quindi se sei una di queste persone che a cui piacerebbe proprio lavorare in modo serio anche per carità c'è anche la parte divertimento ma che sei una persona che ti vuoi impegnare nelle cose e qua puoi fare veramente lo stipendio anche di più ci sono un sacco di benefici quindi se vuoi scrivimi sotto ti metterò il telefono il numero di telefono e oppure su facebook mi cerchi e Anna Maria Cialabba e per un colloquio così conoscitivo ok ciao ciao